La legge 23 è un'importante riforma promossa nel 2015 dalla Regione Lombardia sui servizi socio-assistenziali e sanitari. Una legge che però largamente è rimasta inattuata. La Will dell'Ario ha promosso un confronto con diversi attori proprio sulle opportunità e sulle prospettive di questo nuovo modello. I territori devono favorire tutto il lavoro di integrazione tra la parte sanitaria, socio-sanitaria e sociale. Questo presuppone un grande lavoro di raccordo tra ospedali, medici e medicina generale, amministrazioni comunali, RSA, tutti i vari soggetti corresponsabili nella costruzione di un nuovo sistema in cui non è più il cittadino che ha la responsabilità di girare tra i vari attori per individuare i servizi che gli servono, ma tendenzialmente l'organizzazione si muove verso il cittadino. Una riforma molto importante. La Regione Lombardia su questa riforma è la prima in Italia a dire in modo così chiaro che la prospettiva è questo. È un lavoro di anni, evidentemente, e il nostro è un territorio che da questo punto di vista sta dando risultati molto interessanti. Il metodo è quello di lavorare insieme e di essere tutti responsabili, ciascuno per il proprio pezzo. Un esito che evidenzio come esempio è il lavoro sui pronti soccorsi, cioè un gruppo di miglioramento sull'attività dei pronti soccorsi che ha messo assieme ospedali, medici di vicina generale, medici di continuità assistenziale, cittadinanza attiva, REU, e che ha consentito, attraverso una serie di progetti che sono stati attivati, di avere nella recente influenza del mese di dicembre e nelle prime settimane di caldo di quest'anno non i picchi di accessi inappropriati che si vedevano precedentemente e che su altri territori della nostra Regione si presentano ancora oggi. Il che vuol dire che condividendo le responsabilità e facendo in modo che ciascuno metta sul tavolo quello che può mettere, c'è la possibilità concreta di fare qualcosa di utile. È stato un importante momento di confronto che ci ha permesso di vedere quanto ci sia condivisione sui principi della legge 23 e quanto il nostro territorio stia rispondendo in maniera positiva. Una delle tematiche fondamentali è quella della presa in carico, abbiamo una forte collaborazione con i medici di base, la realtà lecchese è una realtà abituata a lavorare insieme, a lavorare in rete, i cittadini coglieranno rapidamente i risultati di questa riforma che comunque è una riforma importante della sanità e che quindi ha bisogno anche di tempistiche non brevissime per portare i risultati completi a tutto il territorio.